Il futuro dei 101 lavoratori della Oshan di San Giuseppe e l'Arena resta ancora in bilico. Questa mattina il leader della Lega, Matteo Salvini, ha incontrato i dirigenti del punto vendita e i lavoratori. I lavoratori sono sempre più preoccupati per il loro futuro, soprattutto perché le proposte fatte dall'azienda non sono rassicuranti. Si parla di trasferimenti al nord con un lavoro part-time da 800 euro al mese. Da 20 anni ho stesse di cassa presso Oshan e l'Arena. Sta succedendo che praticamente ci ritroviamo dal giorno 3, così senza lavoro, siamo rimasti praticamente serrati. Questa è la parola che possiamo, il termine giusto che possiamo utilizzare. Io volevo un attimino attirare l'attenzione anche dagli istituti regionali e comunque siamo stati anche dal sindaco, però ci troviamo oggi che praticamente non c'è nessuna apertura da parte né della regione né del comune. Siamo ancora in trattativa e siamo ancora in alto mare. Ci aspettiamo un po' di più. Tutti i giorni non abbiamo tutte queste telecamere, ovviamente. È venuto Salvini, ok, ci può stare, però non ci abbandonate. Noi chiediamo anche a tutte le emittenti che non ci abbandonano e che ci stanno sempre vicino per poter portare la nostra voce a livello nazionale. Salvini parla di una sicura ricollocazione dei 101 dipendenti, consigliando ai vertici di chiedere anche il supporto a comune e regione. E inoltre la Lega Annunciato Salvini chiederà alla regione Sicilia di approvare una legge che regolamenti il numero dei centri commerciali. Catania, infatti, è la terza città europea per concentrazione di centri commerciali, tutti vicini tra loro. Ovviamente Oshan è una realtà molto grande in Italia, però dietro al marchio Oshan ci sono marchi come Simplis, ma correlate di tipo Brickman, Decathlon e Rua Marlene. Quindi ipotesi di collocamento potrebbero essere tranquillamente vagliate. Quello che chiediamo noi è di passarsi una mano sulla coscienza e cercare di dare quanto più possibile una mano ai dipendenti che per anni hanno contribuito al risultato economico di un'azienda che finora ha preso tanto dal territorio catanese.